in casa bianconera si è acceso il mercato le voci che riguardano caia york sono sempre più insistenti ma attenzione perché c'è una squadra da costruire non c'è soltanto un reparto non c'è soltanto l'attacco non c'è soltanto il centrocampo quindi attenzione a quelle che saranno le prossime moste di mercato ma come si metterà in campo la juventus e questa è una bella domanda che ci è stata fatta sì perché qualche giorno fa abbiamo abbiamo inaugurato fondamentalmente quello che è un format che avevamo già proposto lo scorso anno ossia quello di poter proporre domande qui sotto nei commenti le più interessanti si trasformano in video approfondimenti in merito al mercato in merito alla juventus in generale ed è per questo che quindi vi diamo la possibilità qui sotto i commenti di scrivere per fcm è la vostra domanda le più interessanti le più intriganti diventano oggetto di nuovi video ed è così che ha fatto oggi simar spero di pronunciarlo bene che mi ha fatto una domanda molto molto interessante che vorrei approfondire insieme a voi e vorrei analizzare insieme a voi in merito a quello che è il mercato ma anche in merito a quelle che sono notizie di mercato io prima di cominciare come al solito vi invito a supportarci quindi mi raccomando lasciate like se volete anche voi fare le vostre domande qui sotto nei commenti vi invito a farlo quindi scrivete è per fcm e poi la domanda e io appunto vi risponderò nei prossimi giorni ovviamente citandovi inoltre vi ricordo appunto di lasciare like e iscrivervi al canale e allora andiamo a scoprire la domanda appunto del nostro amico simar allora il nostro utente il nostro amico simar ci scrive secondo te la juventus di allegri potrà giocare col 433 con due mediani e il vertice alto e se sì il tego artista potrebbe essere dibala l'esterno destro potrebbe essere kuluseski simar la tua è una domanda molto bella molto intelligente ed è una domanda che ci dà uno spunto per poter analizzare la nuova juventus di max allegri una nuova juve di max allegri che fin da subito abbiamo hanno tutti fondamentalmente ricostruito come un 4231 e se ci pensi un po' il tuo 423 il 423 che tu hai citato in questa domanda è un po' un 4231 perché se ci pensi il 4231 ha due mediani davanti alla difesa e poi il trequartista questo 423 di cui parli tu appunto prevede due mediani e il vertice alto che appunto sarebbe il trequartista che andrebbe a comporre la linea dei tre alle spalle della punta 4231 utilizzato molto spesso negli ultimi anni da tante squadre fu allegri qualche anno fa a utilizzarlo in quella famosa stagione in cui aveva tanti giocatori offensivi e lui per primo disse una cosa molto chiara e molto spontanea ultimamente ha raccontato come è nato quel famoso 4231 che venne inaugurato allo stadium contro la lazio e che fece veramente un figurone era l'anno di cardiff per intenderci lui semplicemente non ha fatto molti ragionamenti tecnico-tattici ha detto semplicemente io senza offendere nessuno ho preso gli 11 giocatori più forti che avevo in rosa e li ho messi in campo poi abbiamo cercato di dare a ciascuno di essi una collocazione tattica ma io avevo bisogno di mettere tutta la qualità all'interno del campo e l'ho fatta attraverso questo modulo e quindi cosa ha fatto? ha messo Pjanic e che dire davanti alla difesa ha messo soprattutto Mandzukic che in una posizione assolutamente inedita che ha probabilmente anche stravolto la carriera secondo me ha anche levato qualche anno di carriera visto che correva come un matto ha messo Dybala alle spalle di Guain ha messo Iguain ovviamente come termina l'offensiva e ha messo a destra uno tra quadrato e da glas costa o eventualmente pernadeschi questo era l'idea che si poteva optare per ciò che riguarda la nuova Juventus cioè tutti quando è arrivata Allegri hanno pensato e abbiamo pensato si va con 4-2-3-1 quindi l'idea è quella di poter mettere due giocatori molto fisici davanti alla difesa perché l'idea del Allegri è quella di avere sempre un centrocampo molto fisico ricordate l'Allegri che al Milan preferiva Bommel a Pirlo non perché preferisce in sé per sé quel tipo di giocatore ma perché quando ha tanta qualità davanti quindi quando ha bisogno di mettere tanta qualità davanti deve dietro quindi sulla mediana mettere della fisicità che possa in qualche modo contenere e fare filtro per questo il nome di Locatelli è uno dei nomi più indicati perché è uno di quei giocatori che probabilmente abbina alla qualità di un regista anche la quantità perché è un giocatore fisico che riesce a conquistare appunto il pallone ma attenzione perché io non escluderei a priori l'ipotesi di un 4-3 classico sì perché i punti cardine sono fondamentalmente due da lì passerà fondamentalmente la scelta sul modulo il primo è Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo deve capire cosa farà da grande queste ultime stagioni di Cristiano Ronaldo devono essere quelle della presa di coscienza del fatto che Ronaldo non è più il Ronaldo dei 25 anche 30 anni ma è un Ronaldo di 36 anni e già secondo me Allegri nella prima stagione della Juventus aveva cercato di farglielo capire quando? quando lo posizionava come punta come vera prima punta della Juventus poi però attenzione perché è cambiato qualcosa è cambiato qualcosa perché quando è arrivato Sarri lui ha detto a Sarri chiaramente io dovevo giocare più largo ha cominciato a rigiocare più largo e secondo me da quella stagione in poi abbiamo visto Ronaldo che non è che ha segnato meno però fondamentalmente giocando molto più lontano alla porta secondo me era meno pericoloso Ronaldo invece secondo me deve tornare molto più vicino alla porta e secondo me è il ragionamento che gli farà proprio lo stesso Max Allegri l'ho ripetuto veramente una marea di volte quindi mi sembra anche superfluo ripeterlo però il discorso che ha fatto lui chiaramente a Sky Calcio Club quando ha parlato di Ibra che è lontano dalla porta in tutti questi anni ha divorato gol incredibili o meglio quando a 40 anni si è avvicinato alla porta si è reso conto di poter fare tanti e tanti gol chissà ha detto lui quanti gol avrebbe potuto fare Ibra da prima punta vera e che quando era giovane si poteva permettere l'usso di svarare in tutto il campo perché voleva sempre il pallone perché poteva essere sempre protagonista un po' quello che succede con Ronaldo Ronaldo quando vede che le cose non vanno granché si va a prendere il pallone dietro quindi parte da sinistra fai anche il solito slalom cerca il solito modo per rientrare sul destro e tirare sul destro questa cosa però all'età di 36 anni può essere un po' un limite quindi può portare Ronaldo scarico in aria per questo secondo me Ronaldo deve fare la prima punta se Ronaldo si mette in testa di fare seriamente la prima punta è che eventualmente si può attuare il 4-2-3-1 in un 4-2-3-1 in cui l'esterno a sinistra non è Ronaldo ma è uno tra Chiesa e Chiesa perché fondamentalmente da quella parte c'è solo lui che può ricoprire bene quel ruolo alle volte magari si può inventare un Alexandro alto e un Luca Pellegrini basso in certe partite in cui vuole giocare le mani a più difensiva però fondamentalmente l'idea è quella cioè Chiesa a sinistra e a destra attenzione perché non darei per scontato un Kulseski fin dal primo momento fin dal primo minuto titolare perché io credo che Kulseski verrà dosato soprattutto all'inizio e verrà utilizzato come pedina importante da subentrante ricordiamoci che Max Allegri è una predilizione per ciò che riguarda le sostituzioni per lui hanno un ruolo fondamentale e attenzione perché l'ultimo Allegri è un Allegri che è entrato è uscito dal calcio in un modo e ne entra in un altro nel senso che lui è uscito dal calcio nel momento in cui il calcio era in una fase normale normalizzato quindi cosa vuol dire? tre sostituzioni Allegri con le cinque sostituzioni andrà a nozze perché Allegri è uno di quelli che ama fondamentalmente le sostituzioni e i cambi lui guardava le partite in questi due anni a detta sua e si divertiva non a vedere chi giocava meglio ma chi azzeccava le sostituzioni giuste cioè lui è uno che da questo punto di vista ci studia tanto studia più sulle sostituzioni che sulla tattica cioè da questo punto di vista è abbastanza maniacale e con l'arrivo delle cinque sostituzioni lui andrà a nozze e perché secondo me Kulseski sarà importante? perché lui utilizzerà molto spesso Kulseski d'arma a gara in corso e non sottovalutate questo aspetto perché per lui i giocatori che entrano sempre a gara in corso valgono quanto i titolari quindi secondo me a destra vedremo molto spesso quadrato un po' più alto anche se quadrato terzino ricordiamolo ha inventato lui tornando al tuo discorso mio caro Simar la Juventus potrebbe giocare 4-1 e Dybala potrebbe fare il trequartista sì perché anche da Dybala dipende molto perché 4-3 classico vuol dire che Dybala in qualche modo viene escluso perché a destra chi metti? metti un Kulseski, metti un quadrato a sinistra metti un Federico Chiesa o comunque degli esterni puri il Fernandeschi di turno anche se spero di non verlo più in bianco e nero la punta ovviamente Ronaldo ma il problema è sempre quello Dybala non è un esterno quindi al massimo potrebbe giocare la punta e secondo me è un ruolo un po' sprecato per lui per questo io credo che potrebbe utilizzare il 4-2-3-1 proprio per utilizzarlo lì ma attenzione perché come vi dicevo come vi ho detto più e più volte Allegri punterà molto sul ruolo di McKennie che è uno dei pochi centrocampisti che si inserisce in quel 4-2-3-1 di cui vi parlavo quello famoso dell'epoca di Cardiff nei due davanti alla difettazione c'era un giocatore molto fisico come Chiedira ma che si inseriva molto spesso quindi tu in aria avevi anzi avevi fuori dall'aria Dybala e il quadro di turno che crossava ma in aria ne avevi tre e avevi Manzu che c'è Ronaldo e Chiedira che si inseriva ecco da questo punto di vista sarà molto importante dare un'occhiata a quello che sarà il ruolo di McKennie che sarà un trequartista tipico che si inserirà molto molto spesso quindi nel 4-2-3-1 non ci sorprendiamo nel vedere due giocatori davanti alla difesa come per esempio Locatelli qualora dovesse essere preso e il Rabbio di turno e davanti vedere un McKennie che avrà un ruolo importante perché dovrà inserirsi secondo me lavorerà anche molto con Rabbio da questo punto di vista cioè dovrà insegnare a Rabbio i tempi tecnici per potersi inserire perché anche lui potrebbe essere un giocatore che in aria potrebbe fare la differenza con i suoi colpi di testa con la sua altezza con la sua fisicità vedremo se apprenderà questo tipo di caratteristica quindi ricapitolando io credo che Alimentos possa giocare con questo tipo di modulo che tu prospetti cioè 4-3-3 con però un modulo che è molto più simile al 4-2-3-1 cioè il 2-minare di un'altra difesa e Dybala che sta alle spalle della punta però ripeto dipende molto da due aspetti dal primo cioè se Ronaldo sarà disposto a mettersi in aria e giocare da prima punta perché come vi dicevo il primo anno di Ronaldo Alimentos giocava con 4-3-3 non più con 4-3-1 quindi dava solidità con i tre a centrocampo con l'innesto di Matuidi insieme a Pjanic e insieme a Kedira e in avanti Manzuki c'era la spalla ideale di Ronaldo e quindi giocavano fondamentalmente loro due in attacco ma c'era più Manzuki c'esterno a sinistra che non Ronaldo che doveva essere il terminale offensivo secondo me ritroveremo Ronaldo molto più prima punta rispetto al passato fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti ditemi cosa ne pensate di questa idea che ci prospetta Simarch questo 4-3-3 perché poi in realtà è un 4-2-3-1 e ditemi secondo voi chi giocherà in questa Juventus come con che modulo e chi saranno gli interpreti quindi qui sotto nei commenti sono curiosi sapere cosa ne pensate scrivetevi la vostra qui sotto nei commenti ciao 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 Grazie a tutti.